Sabato 26 dicembre ti aspettiamo al Palamangano di Scafati per l'evento più divertente dell'anno Il gran galà della comicità Direttamente dalla fortunatissima trasmissione televisiva Made in Sud Tutti i personaggi, gli ospiti e le suddine in un imperdibile appuntamento di cabaret Presentano Gigi Ross e Fatima e la musica del DJ Frank Carpentieri Prevendite abituali e su www.godue.it